Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento, quest'oggi andiamo a vedere come installare Windows 7, il noto sistema operativo di casa Microsoft rilasciato nel 2009. Il sistema è diventato da subito molto popolare e anche ben utilizzato, soprattutto in ambito aziendale. Vi ricordo che il supporto per Windows 7 è terminato il 14 gennaio 2020, pertanto da quella data non si riceveranno più aggiornamenti per la sicurezza, quindi esponendo il proprio computer a rischio, soprattutto se connesso a internet. Questa guida si rivolge soprattutto a coloro che volessero utilizzare il sistema operativo su un vecchio computer oppure utilizzarlo in macchina virtuale. Questa procedura viene fatta soprattutto per una questione di retrocompatibilità software, nel caso dobbiamo utilizzare un'applicazione che però è compatibile solo con questo sistema. Per utilizzare Windows 7 è necessario avere un computer o una macchina virtuale eventualmente con 1 GB di RAM, nel caso di sistemi a 32 bit, oppure 2 GB di RAM, nel caso di sistemi a 64 bit. Almeno 16 GB di spazio disponibile sul disco, nel caso di 32 bit, oppure 20 GB nel caso di 64 bit. Possiamo installare il sistema via aggiornamento, quindi partendo da una versione precedente del sistema, oppure, opzione più consigliata, una formatazione completa, quindi un'installazione pulita del sistema operativo. In questo caso però è necessario avere il disco originale del sistema operativo, oppure avere l'immagine disco sotto forma di file ISO da inserire sulla propria chiavetta USB, opzione consigliata, oppure su un CD o DVD vuoto. Il file potrebbe pesare dai 4 ai 6 GB. Nel caso dobbiamo utilizzare la macchina virtuale possiamo direttamente inserire l'immagine ISO all'interno della nostra macchina. Dopo aver preparato il nostro disco oppure la chiavetta, siamo pronti per poter installare il sistema operativo. Sul computer inseriamo il dispositivo, quindi accendiamolo, e tramite il boot menu andiamo a selezionare il dispositivo esterno. Molte volte viene riconosciuto già da subito, senza premere ulteriori tasti, nel caso premiamo un tasto per avviare il sistema. Dopo alcuni secondi di attesa apparirà la prima finestra di installazione. Qui dobbiamo andare a scegliere la lingua e la tastiera italiana, quindi selezioniamo avanti e ora premiamo sul tasto grande installa, posto al centro dello schermo. Vi ricordo che sempre tramite il proprio disco è possibile ripristinare il sistema nel caso di problemi, basta selezionare la voce in basso ripristina il computer. Qualche secondo di preparazione e partirà il programma di installazione. Ad alcuni può succedere che apparirà una finestra con la lista delle versioni da installare sul computer. scegliete quindi la versione che più vi agrada e selezioniamo avanti. Apparirà come prima schermata il contratto di licenza, questo è importante per confermare l'utilizzo del proprio sistema. Quindi leggiamo il testo e selezioniamo la spunta accetto le condizioni di licenza, quindi premete il tasto avanti. La prossima finestra ci chiede il tipo di installazione che vogliamo effettuare, se un aggiornamento oppure un'installazione personalizzata. visto che però stiamo effettuando un'installazione pulita, andiamo a scegliere la voce personalizzata utenti esperti. E qui giungiamo alla finestra delle partizioni. Qui dobbiamo andare a selezionare la partizione dove installare il sistema operativo. Per chi sta installando il sistema in macchina virtuale oppure su un disco vuoto, basta selezionare l'unico disco che viene mostrato e premere in basso il tasto nuovo. Quindi confermiamo con ok e ora la nostra partizione sarà pronta per l'utilizzo. Basta quindi fare avanti e partirà il programma di installazione. Se ci sono due o più partizioni controllate che queste non siano utilizzate o che ci siano dentro dei dati importanti. In questo caso uscite dall'installazione e controllate se ci sono dei file importanti all'interno, altrimenti se siete sicuri premete il tasto elimina in basso. Quando è tutto pronto selezioniamo quindi la partizione che vogliamo utilizzare, quella con più capienza, e premiamo il tasto avanti. Quindi adesso partirà il programma di installazione. Viene effettuata quindi la copia dei dati del sistema operativo. In questo caso il sistema verrà avviato più volte per poter installare tutti i vari servizi. La durata varia dai 15 ai 30 minuti a seconda della velocità del proprio computer. Dopo una lunga attesa siamo pronti per la configurazione del nostro sistema. Qui dovremo andare ad inserire il nome utente e lasciare eventualmente il nome del computer. Potete anche modificarlo. Quindi premiamo su avanti e scegliamo se vogliamo inserire una password all'interno. Anche senza averla scritta selezioniamo avanti. Ora tocca l'inserimento del codice product key. Questo è fondamentale per assicurare che il computer sia ben attivato, quindi che venga utilizzata una licenza originale del sistema operativo. Altrimenti se non ce l'abbiamo selezioniamo ignora. Se invece abbiamo il codice scriviamolo e selezioniamo avanti. Siamo arrivati alla scelta della protezione del sistema. Qui potete scegliere se attivare gli aggiornamenti automatici. Verranno proposti quelli già pubblicati fino al 14 gennaio, quindi data fine supporto. Oppure se non installare nessun aggiornamento. Ora ci chiederà di inserire la data e l'ora più il fuso orario. Inseriamoli oppure se è già impostato selezioniamo avanti. Se siamo connessi a internet vi chiederà se la rete dove siamo connessi è una rete privata, aziendale o pubblica. La configurazione del sistema è terminata. Attendiamo qualche secondo e se apparirà la schermata di login vuol dire che tutto è andato per il verso giusto. A questo punto potremo finalmente vedere il desktop nuovo e pulito di Windows 7. Ora il nostro computer o macchina virtuale è tecnicamente pronto per l'utilizzo. Possiamo navigare tra le cartelle e installare i vari programmi. Vi ricordo che se non avete inserito il codice product key avete 30 giorni di prova per attestare l'utilizzo del sistema operativo. Inoltre assicuratevi di installare i driver per rendere il sistema più efficiente e più veloce da utilizzare. Nel caso stiamo utilizzando una macchina virtuale possiamo installare gli componenti aggiuntivi dalla finestra del proprio programma, le quest additions per virtual bots oppure le VMware tools per VMware player workstation. Ora siamo pronti per poter utilizzare il nostro sistema per test oppure per utilizzare applicazioni incompatibili con i nuovi sistemi. Questa era l'installazione di Windows 7 sul proprio computer o macchina virtuale. Grazie per l'attenzione e vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche tramite la campanella ma soprattutto seguitemi sui miei vari social network per ricevere aggiornamenti sui nuovi video che usciranno ma anche notizie, curiosità e molto altro. Grazie per l'attenzione noi ci vediamo a un prossimo video.